Binomio d'eccellenza, vice campioni italiani, juniors, 2017. Primo gol, con due errori, ma un gran tempone, due 10 e 26. Partita, sarderosa. Binomio nel Stimma regionale Marche. Vai, vai! Solo tre percorsi metti in questa categoria amatori. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vola, vola! Brava! Vai, vai, vai! Deve chiudere, deve chiudere! Barry Dockside, la grande potenza di questo quadro. Con Sara De Rosa, due 23, 43. Due, due, tre, quattro, tre. Tanto facciamo preparare Pietro Cruziani. E arriva allora anche il quarto percorso netto, io l'ho chiesto, quarto percorso netto per Sara De Rosa, che gli vale. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.